Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video a grandissima richiesta ragazzi leggo i vostri commenti, vedo le vostre richieste, ce ne erano tantissime quindi a grandissima richiesta un nuovo come non cucinare con Nicole rubrica che faccio esclusivamente perché i miei follower vogliono vedermi soffrire mentre faccio una cosa che assolutamente non so fare, cioè cucinare sono già pronta con il mio cappellino da chef, ragazzi che ho il cappellino da chef con il mio nome ma non so fare praticamente manco una pasta asciutta ancora un po', quindi oggi però ho deciso siccome mi piace proprio complicarmi la vita, potevo fare una cosa semplice, no magari per voi sarà semplice però per me è complicatissima, ho deciso di cimentarmi nella realizzazione, nella creazione della torta a bracci molino bianco, ci sono i biscotti metà tipo vaniglia e metà panna, sicuramente conoscerete tutti gli abbracci che mi mancano un sacco, qui in Olanda non li trovo e appunto oggi ho deciso di fare la torta a braccio non so che cosa ne uscirà, non so se uscirà una torta, non lo so, succederà un disasso, non lo so ma noi intanto cuciniamo e ci divertiamo assieme e poi si vedrà ho trovato la ricetta su fatto in casa da Benedetta, sono impazzita, volevo assolutamente provare mi fa però veramente veramente ridere il fatto che loro ci mettono sempre tipo livello difficoltà facilissimo tempistica 20 minuti, poi per me invece livello è ultra super difficilissimo potenziato e ci metto 3 ore, quindi per me, non so se poi sono l'unica, ma per me queste cose non sono mai affidabili perché sì ci metteranno 20 minuti loro che sono tipo chef, ma io decisamente no, quindi prevedo una cosa lunghissima e molto incasinata gli ingredienti che vi faccio vedere sono per 10 persone che sarà tipo il ciambellone intero da notare che alcuni ingredienti io ce li ho diversi, quindi già iniziamo benissimo adesso vi spiego, allora ci serviranno 4 uova che cosa assurda qui in Olanda ragazzi, il minimo che si possono comprare sono 6 non esistono né, non esiste né il pack da 4 né tantomeno da 2 che invece in Italia ho visto spesso qui appunto minimo, minimo sono 6, però ce ne servono 4 poi ci servirà 160 grammi di zucchero ci serviranno 320 grammi di farina 00 io non ho la minima idea di cosa sia la farina 00 non ho mai capito la differenza tra queste farine so solo che ho due tipi di farine diverse, ok? che devo finire e quindi le mischieremo e quello che succede, succede poi nella ricetta di fatto in casa da Benedetta c'è una fialetta di aroma all'arancia che però a me fa schifo e non penso onestamente che negli abbracci ci sia il sapore arancia quindi utilizzerò questo che è aroma alla vaniglia che secondo me è molto molto meglio e renderà il tutto molto più dolce e buono poi ci serviranno 100 millilitri di acqua vabbè l'acqua la prendiamo dal rubinetto e poi 100 grammi di olio di semi di girasole ma perché in grammi? scusami qua è un litro no? cioè fatemi capire un attimo perché nella ricetta mi scrivono 100 grammi di olio? non si misura in grammi l'olio? è liquido aiuto? vabbè ok allora quindi 100 grammi che sarebbero 100 ml presumo di olio di semi di girasole eccolo qua poi ci servirà il lievito per dolci io ho trovato questi due che sono avanzati da varie cose che preparava Neil presumibilmente a casa mia e quindi non so perché questo è decisamente per dolci però è già vanigliato quindi anche questo ha il sapore della vaniglia già avremo questo con la vaniglia però vabbè fa niente quindi abbiamo questo che dovrebbe essere quello corretto e poi ho questo che è un lievito sia per dolce che per salato che secondo me però non va bene secondo me è meglio decisamente questo e ce ne servono 16 grammi qui con te 16 grammi perfetto e poi ultimo ingrediente ci serviranno 20 grammi di cacao eccolo qua non è specificato se è cacao amaro o cacao normale ops io ho solo questo amaro non ho neanche il Nesquik quindi ce lo faremo andare bene ragazzi volevo mettere il grembiule ragazzi molto casereccio però fa troppo caldo non ce la faccio quindi anche se vi macchierò il vestito fa niente mi fa troppo ridere ragazzi perché io già lo so che succederà un disastro io già lo so cuciniamo step 1 passo passo ok meno male perché altrimenti qua non ce la facciamo per prima cosa in una ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero mescoliamo bene con una forchetta e io qua già ho diversi dubbi cioè le uova sia il tuorlo che l'albume assieme presumo comunque voi che fate i siti di cucina e le ricette fate sempre questo dite step 1 è sempre semplice in realtà ci mettete tre cose dentro ok perché rompiamo le uova già è difficile aggiungiamo lo zucchero mettiamolo nella bacinella già è difficile poi mescoliamo con una forchetta questo sarebbero almeno quattro passaggi per come la vedo io facciamo un po' di spazio qua e prepariamo la bacinella mi serve una bacinella si non so se basta questa come grandezza quattro uova devo pesare lo zucchero ecco perché non hanno aggiunto anche la pesa dello zucchero in questo step si 160 grammi di zucchero allora oddio ho sbagliato aiuto non lo so fare come si fa la ah ok dovrebbe essere penso di aver fatto la tara si ok già mi sono dimenticata i grammi di zucchero ok 160 allora nicole concentrati allora sono solo 40 questi ma 160 è tantissimo 160 grammi di zucchero più quattro uova ci staranno qua dentro no ok devo cambiare bacinella questa era assolutamente troppo piccola rompiamo le uova ok allora questa cosa può sembrare semplice ma in realtà io faccio sempre un disastro quindi attrezziamoci non si rompe mica di plastica un primo qua tac uno cos'è questa cosa rossa all'interno forse mi è caduto un pezzo di buccia non lo so questa c'è una roba strana tipo mi spiegate che cos'è questa cosa all'interno dell'uovo uovo numero 2 e qui partiranno pezzetti di buccia l'ho pure rotto vabbè tanto non importa e c'è un'altra di questi ma che cos'è sta roba non capisco comunque già ho le mani tutte sporche di uova e mi fanno senso primo step ci siamo quasi ve lo dicevo che completare il primo step già è difficile per me mescoliamo bene con una forchetta ok non ci resta appunto che mescolare bene il tutto e questo sarebbe già il mio massimo perché tipo io così ho fatto lo zabaione capito quindi cioè per me questo potrebbe già essere una ricetta di per sé ma devo montarlo tipo oppure mescolare e basta io non capisco perché mescolare con una forchetta e non con un cucchiaio scusate cioè devo mescolare così come se stessi montando un po' non capisco vabbè la consistenza del mio intruglio qua è praticamente la stessa dell'intruglio sulle foto quindi secondo me stiamo andando bene uniamo anche l'olio di semi e l'aroma all'arancia continuiamo a mescolare qua già dovrebbero essere altri tre step in realtà nascondiamoli sempre in uno e qui ci si pone già un altro problema uniamo l'olio di semi che io devo in qualche modo quantificare in 100 grammi cioè 100 ml ma come faccio a pesarlo ah posso settarla ok ci sono arrivata ho settato ups grammi ti prego funziona ok 70 87 98 100 voilà no 99 mi prende in giro questo viaggio 100 ok e fino a qua ci siamo ragazzi molto proud molto proud no 101 vabbè 101 sia 102 ma che è sta roba scoppio ritardato vabbè non penso che cambierà tantissimo ho un altro dubbio allora qua c'è scritto negli ingredienti una fialetta aroma arancia non c'è scritto quanti ml quanti grammi di questa fialetta aroma arancia io però che voglio usare quello alla vaniglia ed ho questa boccetta secondo voi che cosa devo fare devo versarla tutta perché c'è scritto una fialetta e dicono di versarla tutta oddio secondo me questo è troppo però potrebbe anche essere tipo non cioè potrebbe essere tipo diluita non concentrata è forse giusto però abbiamo già il lievito che è vanigliato mamma mia ragazzi io veramente quando vedo c'è tipo queste cose tipo una fialetta che non si sa quanto è oppure quanto basta che cosa significa quanto basta cioè voi mi dovete specificare io non lo so io sono negata ragazzi io veramente ce l'ado completamente a caso voi che sapete cucinare sicuramente se riesco ad aprirla sapete se devo metterla tutta o no ma io in questo momento veramente non ho più palli da idea ok io non lo so forse troppo forse troppo poco non lo so ma vabbè è andata così ragazzi e poi aggiungiamo i 100 grammi del nostro olio di semi lo faccio qua così vedete non mi ispira per niente tutto ciò posso dirvi la verità magari alla fine verrà buonissimo ma sta roba non mi ispira affatto avevo anche il frustino quello elettrico perché non mi fate usare il frustino elettrico ma mi fate fare a mano che non ho più palida idea di come sto facendo se sto facendo giusto oppure no perché mi fate mescolare con la forchetta e non con il cucchiaio troppe domande che non l'hanno risposta ragazzi io cioè veramente non devo neanche sforzarmi ad essere imbranata in questi video perché è veramente più palida idea di quello che sto facendo cioè per me veramente possono mettere su una ricetta tipo per il primo aprile ok completamente sbagliata e io la seguirò comunque alla lettera perché cioè non ci capisco niente io sono brava ad ordinare al ristorante a mangiare o a ordinare a casa e mangiare ma mi piace di più al ristorante step successivo è aggiungiamo anche l'acqua ok già mi sono dimenticata quanta 100 ml andiamo a ripesare però perché l'acqua sono 100 ml e invece l'olio di semi 100 grammi cioè perché mi incasinate così perché non potete mettere due liquidi con la stessa categoria di peso perché uno è in grammi e l'altro è in litri non ha senso 100 ok ragazzi ci siamo e lo step successivo è appunto semplicemente aggiungere anche l'acqua infine unia infine come se fossimo alla fine di questa ricetta non prendetemi in giro che non siamo manco un quarto infine uniamo la farina e il lievito per dolci mescoliamo bene fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo non troppo liquido e ragazzi cioè le quantità ve le state dando voi quindi se mi viene liquido la responsabilità è vostra perché io sto facendo pesando tutto esattamente io qui già lo so che sto facendo un disastro perché non so che farina ho non so se è 0-0 cioè qui non c'è scritto niente poi ne sto unendo due diverse ha un colore scuro questa farina secondo me non è giusta secondo me andrei più sull'altra tipo perché non so non mi ispira forse è integrale ok questa mi sembra farina normale bianca l'altra era veramente strana ma sono tantissimi qui non sono neanche 100 ok allora intanto sto facendo un disastro intanto qua sono 200 grammi aggiungiamo questi perché non ci stanno là e adesso altri 120 grammi ok 121 ragazzi io più precisa di così non so come fare e aggiungiamo anche questo e poi il lievito vado appunto ad usare questo della pane angeli che ovviamente ho portato dall'italia non so come farò a mescolare tutto sto ambaradan di roba in questa bacinella minuscola forse dovrei cambiarla mi stavo chiedendo per mescolare continuo con la forchetta perché non hanno specificato invece no nelle foto ad un certo punto iniziano ad usare una spatolina per mescolare però non me lo specificate ragazzi mi dovete specificare le cose perché altrimenti io vado un po' nel palico ok sto facendo un disastro però ho cambiato bacinella perché quella era veramente troppo piccola e adesso mescoliamo dobbiamo ottenere un impasto omogeneo non troppo liquido morbido ed omogeneo ragazzi il mio è pieno di grumi ed è tutto tranne che è omogeneo e dopo 6 ore passate a mescolare ragazzi questo è il massimo dell'omogeneità che questo impasto riuscirà mai ad avere ok c'è più di così veramente però appunto mi sembra abbastanza omogeneo ho tolto quasi tutti i grumi quasi e non è liquido mi sembra decente qua già prima era complicato adesso è quasi impossibile allora dividiamo a metà l'impasto in che senso come faccio a sapere che è esattamente metà scusami dividiamo a metà l'impasto io ho versato la parte bianca nella teglia ciambella e questa eccola qua oliata infarinata ok allora perché mi mamma mia perché mi dovete complicare così la vita prima ditemi olia ed infarina questa teglia poi passiamo a dividere perché mi incasinate le cose mettete prima la terza cosa che devo fare e poi la seconda e poi la prima soprattutto che cosa vuol dire nella teglia oliata e infarinata cioè quindi ci devo mettere sia l'olio che la farina qua dentro nella teglia fatemi capire scusate io detesto questa parte perché detesto sporcarmi le mani però penso che non ci sia altra scelta in realtà l'olio posso spargerlo con questa vediamo se riesco anche con la farina poi quanto olio mi serve non lo so facciamo ovviamente a caso ma come fa ad essere cioè giusta questa cosa mi sembra di fare un casino che poi c'è la farina sta togliendo tutto l'olio e poi se ne va tutto perché è antiaderente buh ragazzi io per adesso lascerei così secondo me non c'era bisogno di aggiungere niente perché è antiaderente però loro non lo dicono adesso in qualche modo io dovrei dividere a metà il mio impasto che è questo che non so come dividere a metà esatto ovviamente e metterlo solo nella prima metà praticamente del mio della mia ciambella però ragazzi se è troppo liquida cioè è la ricetta che è sbagliata perché io sono stata attentissima a metterci le quantità giuste adesso uniamo il cacao e mescoliamo bene questa è la prima cosa che ha un aspetto decente in tutto questo video solo perché c'è il cacao e anche il profumo ragazzi finalmente è un profumo buono non ci resta che andare ad aggiungere il cacao nell'altra metà che però è decisamente troppo liquida ok io sto aggiungendo un po' di farina direttamente a questo impasto perché è decisamente decisamente troppo liquido nel frattempo ho messo a preriscaldare il forno e vado adesso speriamo bene ad aggiungere l'altra parte con il cacao che è decisamente più densa perché ci abbiamo naturalmente messo il cacao sta cominciando ad avere l'aspetto di un abbraccio incredibilmente non è più liquido ma riesce a stare dritto così senza amalgamarsi senza mischiarsi quindi respiro del sollievo incrociamo le dita ragazzi dovremmo essere a posto per adesso cioè ragazzi se confronto l'immagine del sito con la mia ciambella è quasi più bella la mia e l'ultimo step è inforniamo in forno ventilato a 180 gradi il mio è ventilato almeno spero penso di sì per 35-40 minuti una volta pronta lasciamola raffreddare completamente prima di strarla dallo stampo ciao ciambellina ci vediamo quando sarai pronta ho impostato 40 minuti ma 5 minuti prima verrò a controllare se è pronta e adesso ragazzi non ci resta che aspettare e veramente incrociare tutte le dita del corpo perché da questo momento in poi non posso fare più nulla se ho sbagliato qualcosa ormai siamo fritti quindi ci rivediamo tra poco e spero vivamente di potermi gustare una fetta di torta oggi ok ragazzi questo è il risultato finale della nostra torta a bracci io sono incredula che sia venuta così bene veramente cioè specialmente da questa parte è proprio perfetta qui si è un po' mischiata però a me sembra veramente molto meglio di quanto potessi mai immaginare però ovviamente bisogna assaggiarla perché magari sembra bellissima e in realtà fa schifo come aspetto così la vedete meglio appunto mi sembra perfetta anche il profumo ragazzi non è niente male perché adesso tutta la mia casa profuma di cacao sì io sono abbastanza scioccata perché è perfetta non so come descriverla perché ovviamente non conosco i termini ma ragazzi cioè sembra comprata cioè non sembra fatta da me e già questo è un miracolo comunque quanto sono carini questi piattini con gli unicorni ed ho anche la forchettina con unicorno test dell'assaggio e qui ho seriamente paura che faccia schifo anche se il profumo è buono con me non si sa mai vediamo cioè ragazzi è strabona io mi stupisco di me stessa ma ve lo giuro è strabona adesso proviamo la parte del cacao mi fa troppo ridere che quando faccio qualcosa di salato a malapena ci riesco ed esce decentino diciamo invece i dolci cioè incredibilmente mi riescono bene cioè ma ragazzi è perfetto è strabuono che tra l'altro se non fosse per voi che mi chiedete questi video io nemmeno mi azzarderei a mettermi a fare queste cose tipo quando avevo fatto il tiramisù alle fragole o la torta al cacao cioè io boh e poi però esce buonissimo quindi ormai potete chiamarmi chef Nicole perché appunto ho scoperto questo talento in realtà prossima volta magari faccio un disastro ma stavolta ci è andata bene ragazzi quindi mia family questo è quanto per il video di oggi spero davvero che vi sia piaciuto e scusatemi se non posso farvi assaggiare la torta perché veramente mi piacerebbe tanto questo è quanto vi mando un bacio grandissimo vi abbraccio siete pronti per il nostro braccio venite qua che vi abbraccio forte 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 Dember mi ha guardato malissimo perché sto abbracciando la videocamera comunque questo è quanto mia family noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao